Ciao a tutti, come vedete sono sul tragatto e sto ritornando a casa dopo una bellissima vacanza trascorsa in Sardegna. In questo video volevo mostrarvi le mie vacanze attraverso l'obiettivo e volevo lanciare un'iniziativa anche a voi. Magari ora che andrete in vacanza potete fare degli scatti fotografici e quando ritornate monterete un video e lo posterete qui sotto al mio video come video risposta, in modo che anche noi potremo vedere dove siete stati in vacanza e scoprire posti nuovi. Vi mando un bacio a tutti, vi auguro buona visione del video e vi auguro anche una bellissima vacanza. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!